Quasi 600 telecamere tra droni e rete di videosorveglianza e smartphone in dotazione alle forze dell'ordine garantiranno il controllo capillare della città di Bari durante il G7 delle finanze in programma nel capoluogo pugliese dall'11 al 13 maggio. Le questioni relative alla sicurezza saranno coordinate dalla sala situazioni della questura di Bari dove tutti i rappresentanti delle forze dell'ordine siederanno attorno allo stesso tavolo per prendere decisioni in caso di eventuali situazioni critiche e di pericolo. Saranno impiegati circa 1500 uomini al giorno con particolare attenzione ai cosiddetti obiettivi sensibili via di accesso alla città, porto, aeroporto e stazioni ferroviarie oltre alle zone dove saranno i ministri e le delegazioni Castello Svevo e Hotel delle Nazioni. Il centro della città inibito al traffico veicolare sarà inoltre protetto da barriere in cemento antitir. Abbiamo attivato massimi sistemi di sicurezza ma riteniamo ingiustificato l'allarmismo che si sta diffondendo in città. La nostra intelligence è al lavoro per prevenire qualsiasi evento di pericolo e quanto dichiara il questore di Bari Carmine Esposito presentando proprio le misure di sicurezza che saranno adottate in occasione del G7 delle finanze. Durante le tre giornate del vertice sono infatti previste diverse manifestazioni di protesta, alcune già autorizzate che si svolgeranno comunque lontano dalla zona di massima sicurezza. Fino ad oggi la questura ha ricevuto richieste di quattro sit-in e due cortei i cui percorsi sono ancora in via di definizione. Con la contestazione con gli organizzatori garantiremo a tutti anche i dissidenti il diritto di manifestare e protestare a detto Esposito perché è un segno di rispetto verso la diversità delle opinioni ma la contestazione non deve mai sfociare in forme di intolleranza o peggio di violenza. Altrimenti saremo pronti a ripristinare il rispetto della legge ad ogni costo. Da domani e fino alla fine del mese sono inoltre sospesi gli effetti del trattato di Schengen con il ripristino dei controlli alle frontiere anche ai cittadini dell'Unione Europea.